Signori, buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti ancora di nuovo, ben ritrovati qua nel disordine della mia libreria. Allora, allora, io vi ho menato il torrone per giorni e giorni con le armi segrete tedesche, vi ho parlato talmente tanto a lungo dei vari tipi di aerei, dei vari tipi di jet, delle varie stupidate a proposito dell'aerospazio plano, degli ufo tedeschi, degli ufo nazisti, eccetera, 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 eccetera. Ma ci fu un'arma segreta che, va bene, non riuscì a vedere la luce durante la guerra perché diciamo che si preferì non svilupparla, ma diciamo che la dimostrazione di come gli studi per l'applicazione dell'elettronica alla guerra, fatti durante la seconda guerra mondiale, hanno tuttora una grandissima importanza. Perché? Perché, allora, tutti voi, anche io, tutti noi abbiamo un telefono cellulare, ok? Vi siete mai chiesti come si riesca a far sì che, come dire, le chiamate, io, per esempio, telefono alla mia fidanzata e come si fa ad essere sicuri che io telefoni veramente alla mia fidanzata e non a un camionista di paternò? È un sistema che si chiama Frequency Hopping e Frequency Hopping, scusate, e Frequency Agility. È un sistema che era stato studiato come, diciamo, sistema brevettato, fu brevettato l'11 agosto 1942. Era un sistema per comunicazioni radio, non intercettabili, che aveva come primo obiettivo quello di fornire un sistema di radioguida non intercettabile e soprattutto non soggetto ad interferenze per Siluri, per la US Navy, per la Marina Americana. L'idea non era niente affatto balsana, l'idea poteva funzionare, ma non si fece in tempo a svilupparla durante la guerra e fu sviluppata in seguito. Chi erano i creatori di questo sistema cosiddetto Frequency Hopping, salto di frequenza o agilità di frequenza? erano il musicista d'avanguardia George Antail e questa signora. Eccola qua. Guardatela. Una delle donne più belle che abbiano mai lavorato a Hollywood. Una delle attrici hollywoodiane più belle, più splendide, più meravigliose, Hedy Lamarr. Hedy Lamarr fu definita la ragazza più bella del mondo. Era attrice, un'attrice austriaca, che si trasferì, nata con il nome di Edwig. Il suo vero nome era Edwig Eva Maria Kiesler. Era viennese, nata nel 1913 e non era solo quella che all'epoca venne definita la ragazza più bella del mondo. E insomma, gente, scusate, scusate, scusate se ve lo dico, guardatela bene. Gente, guardatela bene. È indubbiamente una delle donne più belle della storia, sicuramente. Una delle donne più belle non solo della sua epoca, ma di tutti i tempi. Ma era anche Hedy Lamarr, il nome d'arte con cui divenne famosa, era anche una donna di straordinaria intelligenza, perché fu lei, con questo musicista, con questo George Antail, a studiare questo sistema del salto di frequenza, del frequence hopping, che permetteva di ottenere segnali radio praticamente inintercettabili. Questi sistemi, ripeto, sono alla base delle contromisure delle quali i radar attuali dispongono perché il loro segnale non venga intercettato e soprattutto sono alla base questi sistemi del salto di frequenza, della agilità di frequenza, sono alla base dei moderni sistemi per criptare le trasmissioni e anche per evitare, ripeto, che io col mio telefono cellulare al posto di telefonare alla mia amorosa chiamo, ripeto, o un camionista di Paternò o una casalinga 85enne di Voghera. È questo che ce lo permette. Lei, George Antail, e soprattutto lei, Hedy Lamarr, appassionata radioamatrice, appassionata di radio, appassionata di scienza, di tecnica. Ripeto, una donna incredibilmente bella, ma anche una donna incredibilmente, straordinariamente e fantasticamente intelligente. L'inventrice del sistema che ci permette di comunicare con i telefoni cellulari. Una innovazione nata durante la seconda guerra mondiale. Per la serie altro che quelle cazzo di Wunderwaffen di merda, permettetemi di dire. Insomma, scusate, lei fuggì dall'Europa perché, mettiamola così, donna libera, donna intelligente, donna anche scandalosa, perché suo fu uno dei primissimi nudi integrali della storia del cinema. Mussolini, che vide la proiezione di uno dei suoi film in cui Hedy Lamarr appariva completamente nuda, esclamò, ammirato, per Dio, che pezzo di donna è quella austriaca. Beh, oggettivamente siamo sinceri. A distanza di, come dire, questa foto risale ai primi anni quaranta e di Lamarr cui aveva aveva circa trent'anni. Ma siamo sinceri, è tuttora una delle donne più belle della storia, indubbiamente. Ma era soprattutto uno straordinario cervello, era soprattutto una persona intelligente, era una donna libera, era anche un artista, era una donna forte, indipendente e fiera, che ebbe, come dire, oltre ad essere, oltre alla bellezza, aveva anche una testa, aveva anche un cervello e soprattutto, come dire, ci consente veramente. Noi se possiamo comunicare con i telefoni cellulari, senza se e senza ma, lo dobbiamo al genio di un musicista d'avanguardia, il signor George Hentel, ma anche e soprattutto a lei, a Hedy Lamarr, la ragazza più bella del mondo. Indubbiamente, forse anche la più intelligente, detta come. Quindi, cari signori, io vi ringrazio per l'attenzione, come sempre, e come sempre, arrivederci al mio prossimo video. Buonasera. Grazie. Grazie.